Di anno in anno ovviamente ci miglioriamo perché l'organizzazione ormai è abbastanza rodata, scegliamo sempre delle tappe che possano mettere in risalto la bellezza di quei luoghi, di anno in anno cambiando ovviamente le tappe e quindi facendo diventare e rendendo protagonisti diversi comuni della nostra bellissima Sicilia. L'elemento più importante è la Sicilia che è una regione stupenda e una volta di più quest'anno toccheremo delle tappe e delle aree che non abbiamo mai toccato, ci sono delle tappe inedite con delle caratteristiche molto particolari che saranno un elemento sostanziale dal punto di vista sportivo per tutte le squadre. Avremo 25 squadre che parteciperanno quindi il massimo possibile, 175 atleti, abbiamo 5 squadre world tour, dei protagonisti secondo me molto interessanti che si sfideranno e potranno trovare qualunque tipo di caratteristica, dallo sprint dei velocisti alle tappe mosse e con una bella tappa di salita con il re delle salite che è l'Etna.